Cari amici del canale, oggi vi presento un messaggio carico di ispirazione e saggezza, pronto a trasformare la vostra prospettiva sulla vita. Prima di immergerci nelle profonde riflessioni che seguiranno, vi chiedo un piccolo gesto che farà una grande differenza, iscrivetevi al canale e lasciate un like per sostenere non solo il video, ma l'intera comunità che stiamo costruendo insieme. Ogni iscrizione è un passo verso una connessione più profonda e ogni like è un applauso che risuona nel nostro viaggio. Ora, preparatevi a un'esperienza che potrebbe cambiare la vostra vita. Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean Molti di noi desiderano ardentemente realizzare i propri sogni, ma solo pochi trovano il modo. Ti sei mai chiesto perché? Qual è la differenza determinante? La fortuna? Il talento? I geni? Senza dubbio, questi elementi giocano un ruolo importante nel percorso verso il successo, ma la loro influenza è meno decisiva di quanto comunemente si creda, sia da parte degli altri che da parte nostra. Immaginare che la realizzazione dei nostri sogni dipenda esclusivamente dalla fortuna o dai geni è un comodo rifugio. Se tutto è affidato al caso e alle predisposizioni genetiche, allora potrebbe sembrare inutile sforzarsi troppo, fare il minimo indispensabile o arrendersi al destino. Ma è davvero così? Regola numero uno, per realizzare i propri sogni, niente scuse. Un perdente trova sempre una giustificazione, mentre un vincitore trova sempre una soluzione. Fortuna, talento, geni. Sono le scuse predilette di chi si lamenta. Non fraintendermi, non intendo minimizzare l'importanza di questi elementi, ma a volte semplificano così tanto la vita da distoglierci dai nostri sogni. Talvolta, il talento può rappresentare uno svantaggio per gli atleti. Quelli abituati a vincere facilmente nelle competizioni giovanili spesso non sono disposti a impegnarsi duramente quando si trasferiscono al livello professionale. Per avere successo, dobbiamo sviluppare muscoli abbastanza forti, e per farlo dobbiamo affrontare difficoltà, limiti e sfide. Continuare a trovare scuse è controproducente, perdiamo solo tempo ed energia. Il vero segreto per realizzare i sogni si trova altrove. Mi piacerebbe spiegartelo con una metafora. L'unico vero segreto del successo, hai mai provato a trattenere il respiro sott'acqua? A seconda del nostro allenamento, possiamo trattenere il respiro per pochi secondi o diversi minuti. Ma, a un certo punto, il desiderio di respirare diventa così irresistibile che la nostra mente pensa solo a prendere una boccata d'aria fresca. Quando tratteniamo il respiro sott'acqua, arriva sempre quel momento in cui il desiderio di aria invade tutto il nostro essere. Non procrastiniamo, non pianifichiamo la strategia migliore per respirare, non facciamo una lista delle cose da fare per un respiro perfetto. No, niente di tutto ciò. Quando il desiderio è così intenso, agiamo semplicemente. Questo è l'unico segreto del successo che devi conoscere, devi desiderare di realizzare i tuoi sogni come desideri respirare un istante prima di soffocare. Un desiderio ardente, può essere un'immagine forte, a tratti sgradevole, ma è la rappresentazione più chiara di ciò che serve davvero per realizzare i tuoi sogni. Per raggiungere obiettivi ambiziosi, non devi solo desiderarli, ma devi volerli con ogni fibra del tuo essere. Deve essere un desiderio ardente. Con un desiderio del genere, smetti immediatamente di inventarti scuse. Assumi le tue responsabilità e fai tutto il necessario per trovare la strada verso i tuoi sogni. È come il bisogno di respirare, lutteresti fino all'ultimo per farlo. Questo atteggiamento si applica in molteplici ambiti. 1. Nello studio, prima di aprire un libro, devi ritrovare la voglia di studiare, nonostante le difficoltà. 2. Nell'attività fisica, per raggiungere gli obiettivi di forma fisica, devi concentrarti anche sull'atteggiamento mentale. 3. Nei soldi, se desideri la libertà finanziaria, devi esplorare nuove alternative per guadagnare. Rifletti sui tuoi obiettivi. Li desideri davvero? Li desideri più di ogni altra cosa al mondo? Li desideri come desidereresti una boccata d'aria mentre stai soffocando? Se la risposta è no, smetti di inseguire i sogni di qualcun altro e comincia a perseguire i tuoi, quelli che ti fanno ardere di passione e ti tolgono il respiro. Riflettere sui tuoi sogni è come danzare sulla corda tesa tra l'infinito dei desideri e la finitezza della vita. Spesso ci troviamo nel limbo delle scuse, avviluppati nella comoda nebbia della casualità. Ma, oggi, rompiamo gli schemi. Smettiamo di scusarci e iniziamo a ballare consapevolmente sulla corda della nostra esistenza. La fortuna, il talento, i geni, sono solo pretesti che mascherano la verità. La realtà è che il vero segreto risiede nella passione e nel desiderio profondo di respirare la vita dei propri sogni. Quando questo desiderio diventa una fiamma che arde dentro di noi, ogni scusa svanisce nel nulla. Immagina di trattenere il respiro sott'acqua. La tensione cresce, il desiderio di aria diventa irresistibile. Non c'è spazio per scuse o strategie elaborate. C'è solo l'istinto di agire, di emergere, di respirare profondamente. Ecco il segreto del successo. Desidera i tuoi sogni con la stessa intensità con cui desidereresti respirare mentre stai per soffocare. L'ardente desiderio è il motore che ci spinge oltre le sfide, oltre le limitazioni autoimposte. È il vento che gonfia le vele della tua nave verso l'isola dei tuoi sogni. Questo atteggiamento non è solo una regola, è una filosofia di vita. Nello studio, nell'attività fisica, nei soldi, il desiderio ardente è la chiave che apre porte altrimenti chiuse. Non accontentarti di inseguire i sogni altrui, cerca i tuoi, quelli che risuonano con la tua anima. E ora, permettimi di concludere con un racconto zen che riflette il nostro viaggio. C'era una volta un giovane monaco che, desideroso di apprendere il segreto della vita, si recò da un saggio maestro zen. Chiese, maestro, qual è il segreto per realizzare i propri sogni? Il maestro rispose con saggezza, guarda il bambù. Cresce forte e alto, flessibile nelle tempeste. Il segreto sta nella sua resilienza. Come il bambù, devi piegarti senza mai spezzarti, affrontare le tempeste della vita con la tua forza interiore. Il giovane monaco comprese che il vero segreto risiedeva nell'equilibrio tra la forza e la flessibilità, tra il desiderio ardente e la resilienza. Con questa saggezza nel cuore, il monaco intraprese il suo cammino, pronto a danzare sulla corda della vita con grazia e determinazione. Che tu possa essere come il bambù, flessibile e forte nel tuo percorso verso i sogni, e che il desiderio ardente ti guidi come una stella nel cielo notturno. Sì il protagonista della tua storia, danza sulla corda della vita, e lascia che il tuo cuore sia la melodia che accompagna il tuo viaggio. Riflettiamo insieme su questo viaggio della vita, guidati dalla saggezza zen e dalla prospettiva di un oratore motivazionale. James Dean ci ha lasciato una perla preziosa, sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. Una dichiarazione potente, impregnata di significato profondo che, se accolta nella nostra esistenza quotidiana, può trasformare il banale in straordinario. Troppo spesso ci trasciniamo attraverso la vita senza veramente vivere. I sogni sono relegati a mere fantasie, e l'inerzia diventa la norma. Ma oggi, vi invito a rompere queste catene invisibili. Sognare con l'eternità nel cuore, significa immaginare un futuro ricco di possibilità, di realizzazioni che sfidano il tempo. È un invito a coltivare aspirazioni audaci, a credere che ogni giorno sia una nuova pagina in bianco pronta ad accogliere le tracce indelebili dei nostri sogni. Vivere come se dovessimo morire oggi è un richiamo alla consapevolezza del momento presente. Troppo spesso ci perdiamo nell'ansia del futuro o nei rimpianti del passato, dimenticando che la vita si svolge qui e ora. Siamo chiamati a gustare ogni istante, a sfruttare le opportunità, a connetterci profondamente con ciò che ci circonda. La consapevolezza della nostra finitezza dona un colore più vivido all'esperienza quotidiana. Ma come possiamo mettere in pratica questi insegnamenti nella vita di tutti i giorni? Ecco alcuni consigli pratici. Come gemme di saggezza, che potete raccogliere e custodire nel vostro percorso. 1. Visualizza i tuoi sogni. Dedica del tempo ogni giorno a chiudere gli occhi e visualizzare i tuoi sogni. Immagina ogni dettaglio, ogni sensazione. Lascia che la visione si radichi profondamente nella tua mente, alimentando il desiderio di realizzazione. 2. Accetta la responsabilità. Lascia alle spalle le scuse e accetta la responsabilità del tuo destino. Sei l'autore della tua storia, il capitano della tua nave. Prendi il timone e naviga verso le tue mete. 3. Affronta le sfide con resilienza. Come il bambù si piega senza spezzarsi, affronta le sfide della vita con resilienza. Ogni ostacolo è un'opportunità per crescere e imparare. Non temere le tempeste. Abbracciale come parte del tuo percorso. 4. Pratica la consapevolezza. Ogni giorno, dedica momenti alla consapevolezza del presente. Sintonizzati con i tuoi sensi, respira profondamente e apprezza il qui e ora. È in questo momento che la vita si svela in tutta la sua bellezza. 5. Crea una melodia con il tuo cuore. Lascia che il tuo cuore sia la melodia che accompagna il tuo viaggio. Coltiva la passione in tutto ciò che fai, sii il compositore della tua esistenza. La musica del tuo cuore guiderà ogni passo. In conclusione, onorevoli spettatori, vi invito a danzare sulla corda tesa della vita con leggerezza e determinazione. Che la filosofia zen sia la vostra guida, che i vostri sogni siano il faro che vi illumina. Vivete con un cuore aperto, consapevolezza radiante e un desiderio ardente di realizzare la vostra unica e straordinaria esistenza. La vita è un'opera d'arte, e voi siete gli artisti che la plasmano. Grazie. Carissimi, è stato un viaggio straordinario attraverso saggezze e riflessioni che spero abbiano toccato il vostro cuore. Se avete apprezzato questo video e desiderate continuare a nutrire la vostra anima con contenuti significativi, vi chiedo di fare un gesto prezioso, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete questo messaggio di ispirazione e lasciate un commento con le vostre riflessioni. La vostra partecipazione non solo sostiene il canale, ma crea una comunità di individui desiderosi di crescere insieme. Ogni iscrizione è una promessa di nuovi capitoli emozionanti, ogni like è una conferma del nostro impegno, ogni condivisione è un ponte che collega nuove menti a questa esperienza. Grazie per essere parte di questa straordinaria avventura, e vi invito a continuare a costruire insieme un luogo di crescita, ispirazione e connessione. Alla prossima, e ricordate, il vostro contributo rende questo viaggio unico e significativo.